Irene Marturano, team Caratta Lentini, una medaglia d'oro che penso sia molto importante per te. Quali obiettivi adesso ti sei posta anche in vista delle prossime gare? Allora, ovviamente gli obiettivi partecipando a queste gare sono la partecipazione prevalentemente ad europee e mondiali. Infatti appunto sono state esibite queste gare del raking. Ovviamente cambiando categoria, l'obiettivo è quello di fare più punti possibili, così da poter anche superare le altre atlete che stanno già nel 21. Durante questa gara mi sono sentita abbastanza bene e sono riuscita a dare del mio meglio come sempre. Spero comunque di proseguire così e che il meglio deve ancora venire.